buongiorno buongiorno a tutti come state va tutto bene l'avete letto il post di telegram dove dicevo che oggi ci sarebbe stata la possibilità di fare un entry non l'avete letta benissimo trovate il canale telegram sul link in descrizione quindi andate a vederlo perché anche lì lascio spunti interessantissimi non sono consigli di trading lo dico già da ora perché sono spunti didattici per farvi vedere come io personalmente mi approccio con le analisi a mercato vorrei fare questo chiarimento per i nuovi perché vedo che ci sono un sacco di nuovi iscritti cercate di capire bene il concetto e di interpretarlo nella maniera migliore quindi che cosa possiamo vedere ci spostiamo sul calendario economico dove dove abbiamo oggi alle 14 e 30 una notizia molto molto interessante un dato molto interessante andatevelo a vedere che è l'indice dei prezzi di produzione ok quindi sarà molto molto importante per i mercati questo dato vediamo cosa dice vediamo i mercati come interpreteranno questo dato anche noi vedremo come si ripercuoterà per il discorso dei di bitcoin che cosa vediamo questa mattina esattamente come avevamo detto come avevamo ipotizzato sulla nostra strategia abbiamo avuto il questo breakout di questo di questo precedente massimo cosa vediamo dalla struttura siamo sul grafico 15 minuti scusate anzi ci spostiamo un attimo sul quattro ore vediamo che per il momento manca ancora mancano ancora 30 minuti per una per la chiusura della candela sembra che abbiamo accettazione di questa rottura del precedente massimo vediamo aspettiamo ovviamente questi 30 minuti intanto ci spostiamo sul grafico 15 minuti così vediamo molto in dettaglio quello che sta succedendo allora abbiamo due possibili strategie una strategia aggressiva e una strategia conservativa vediamola insieme come che cosa abbiamo abbiamo avuto questo movimento del prezzo che vedete quindi massimi e minimi decrescenti ora che cosa abbiamo fatto qui abbiamo fatto una zona di consolidation guardate questo è solo didattico mi raccomando guardate che cosa ha fatto qui sbilanciamento di pochissimo noi che cosa avremmo dovuto fare io non l'ho triggerata questa questa entry ma era veramente sul 15 minuti era veramente evidente non l'ho triggerata e non ve l'ho fatta vedere perché io non faccio scalping comunque questa questa zona guardate rottura quindi sbilanciamento noi che cosa andiamo a prendere andiamo a prendere il 75 per cento del movimento eccolo guardate preciso 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 eccolo 75 per cento del movimento quindi saremmo dovuti entrare con una posizione del genere rischio rendimento 1 a 3 quindi questo era lo sarebbe stato sarebbe dovuto essere lo stop loss rischio rendimento questa 5 non andiamo a esagerare avemmo preso un qualcosa del genere tranquillamente ci saremmo riusciti in pochissimi minuti non l'ho triggerata però dovete capire come funzionano queste dinamiche quindi su una consolidation quindi su un livello dei minimi sbilanciamento noi entriamo con lo 0 75 per cento a questo livello ma adesso la cancellerò perché non voglio che copiate queste strategie anzi adesso non lo potete copiare perché ovviamente il mercato l'ha già triggerata e quindi spostiamoci spostiamoci su quello che dovremmo fare noi ora da questo movimento da questa zona di consolidation abbiamo fatto il breakout speriamo che ci sia la conferma anche sul quattro ore di questo avvenuto breakout quindi l'accettazione potremmo fare un discorso del genere ok un pochino di consolidation qui e andare a ritestare questa zona scusate ve lo rifaccio vedere io dico che potrebbe esserci una consolidation ma potrebbe anche non esserci un qualcosa del genere e potremmo andare a ritestare la zona di 44 e 9 45 perché in questa zona che cosa c'è se noi andiamo a prendere questo movimento quindi se noi fossimo short in questo a questo livello di prezzo e perché short perché qui avremmo avuto il breakout della struttura vedete su questo livello qui avremmo avuto un breakout confermato da questo consolidation quindi i bear che cosa potrebbero fare potrebbero con lo 0 75 fare prendere il massimo di riferimento minimo di riferimento tirare lo 0 75 e su questa zona potremmo avere un un'entrata di volumi short ok sarà così non lo so io intanto ve l'ho scritto e vi dico che ci sarà questa possibilità da questa questa zona qui secondo me cominceranno a entrare gli short quindi dov'è che noi ci riposizioneremo ci riposizioneremo in zona una volta che saranno entrati i volumi short come presumo ovviamente che cosa faremo 0 75 dal movimento che poi non so dove sarà e noi ci andremo a posizionare con lo 0 75 in questo modo per andare a cercare questo movimento ok stop loss del genere questa è l'entrata aggressiva quindi mi raccomando vediamo un attimo qui come come si sviluppa potrebbe esserci questo questo spring intorno ai al 75 per cento ma potrebbe anche non esserci quindi potrebbe fare una cosa di di questo genere quindi soltanto soltanto una consolidation e poi tornare a diciamo al 75 per cento comunque a chiusura di questa struttura vediamo che cosa farà noi siamo pronti per un ingresso qui qui togliamo un attimo per non fare confusione ora questo era l'ingresso che io mi aspetto aggressivo se noi vogliamo fare un'entrata un pochino più conservativa andiamo sul 4 ore ci spostiamo sul 4 ore e andremo a dal momento che c'è stato il breakout confermato di questo precedente minimo andremo ad aspettare il prezzo nella zona della chiusura in efficienza ecco ancora non l'avevo detto oggi ma come mai non l'avevo detto andremo ad aspettare il prezzo che arrivi in queste zone qui ok cosa faremo noi esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto sul grafico 15 minuti lo applichiamo sul 4 sul 4 ore quindi che cosa abbiamo visto abbiamo visto minimi e massimi sempre decrescenti della struttura eccoli qui sempre minimi e massimi decrescenti ora che cosa abbiamo fatto breakout della struttura ora che cosa ci aspettiamo qui ci aspettiamo un ritracciamento dello 0,75% quindi chi dovesse chi volesse entrare sul 4 ore per un ingresso un pochino conservativo ecco sono questi sono i livelli quindi mi raccomando gestite bene il rischio rendimento come da vostra strategia io non mi sento di dirvi quale sia la migliore perché non conosco il vostro rapporto di rischio rendimento non conosco non conosco nulla il vostro patrimonio la vostra propensione al rischio il vostro money management io non conosco nulla quindi io vi dico cosa farò io una questa è la strategia quella diciamo chiamiamola conservativa sul 4 ore poi c'è la strategia quella di scalping che vi ho fatto vedere sul 15 minuti io direi che ci fermiamo qui per oggi vediamo oggi pomeriggio all'apertura dei mercati e soprattutto vediamo come quel dato andrà ad influenzare i mercati globali per il momento io vi saluto vi ringrazio lasciate un like e iscrivetevi al canale perché secondo me questi contenuti non ci sono spesso su internet direi basta così grazie a tutti e ci vediamo presto ciao ciao